Il 18 ottobre scorso la giunta agropolese guidata dalla sindaco Adamo Coppola ha proposto di intitolare lo slargo sul lato destro antistante la porta monumentale d'accesso al centro storico a Luisa San Felice dei duchi di Agropoli e Lauriano, eroina e martire nella rivoluzione napoletana del 1799. La piazzetta attenzionata a giugno anche dalla famiglia Lisi e Pepe che ne chiedeva l'uso capione a danno del comune di Agropoli non ha ancora denominazione toponomastica. Maria Luisa Fortunata De Molina, figlia del generale borbonico Don Pedro De Molina, nasce a Napoli il 28 febbraio 1764. A soli 17 anni fu ribattezzata la San Felice perché sposa del cugino Andrea San Felice dei duchi di Agropoli e Lauriano, oggi Laureana Cilento, col quale condivise il ducato di Agropoli. Lo splendido Castello Angioino Aragonese, arroccato sulla parte alta e antica della città, rappresentò per molti anni la dimora prediletta della donna che vi soggiornò tra il 1783 e il 1791. Dopo la festa rivoluzionaria del gennaio 1799, per San Felice comincia un periodo di impegno, assistenza ad anziani e bambini, cura dei malati, distribuzione di materiale di divulgazione dei principi rivoluzionari. Benedetto Croce, nella biografia intitolata alla donna, traccia la cronaca della barbara vendetta annunciata contro colei che con coraggio tentò di sventare una congiura ai danni della Repubblica Napoletana, attirando l'ira dei Borbone. Il suo tentativo però fallì e Luisa sarà giustiziata in Piazza Mercato a Napoli, l'11 settembre 1800, sgozzata dal boia con un coltello poi decapitata. La crudeltà della sua fine a 36 anni contribuisce a farne un'icona della rivoluzione, considerata precorritrice del risorgimento italiano delle idee di modernità, memoria storica di quei grandi martiri che con l'ingegno, con il valore e con il sangue furono i pionieri del libero pensiero, sul quale si fondarono le speranze di un vero e proprio rinnovamento sociale e politico dell'Italia.